Renato, un idraulico italiano di 61 anni, è stato arrestato in Belgio con l'accusa di omicidio dopo aver ucciso a colpi di pistola il suo vicino, Stepetim Ai Vazzi, un uomo di 43 anni di origine albanese. L'episodio è venuto a Macklein, vicino a Bruxelles, a seguito di una lite per un parcheggio. Secondo i media locali i rapporti tra i due erano tesi da tempo. Renato, noto nel quartiere come l'italiano, si lamentava spesso del comportamento di I Vazzi, definendolo tirannico emotivo di stress. La situazione è degenerata domenica sera quando I Vazzi è tornato a casa e ha parcheggiato nel posto conteso che era stato temporaneamente occupato dall'auto di un cugino, 19enne. Quando il giovane ha spostato l'auto per lasciare spazio al furgone dello zio Renato, è uscito di casa armato di pistola. Senza esitazione ha sparato alla testa del vicino uccidendolo sul colpo. Non contento, ha poi sparato al cugino della vittima ferendolo gravemente al collo. Il 19enne ora ricoverato in condizioni critiche. Dopo aver minacciato con l'arma anche la moglie e il figlio, 15enne di I Vazzi, l'intervento di un vicino ha impedito ulteriori tragedie. Renato è poi fuggito a bordo della sua BMW, ma la polizia lo ha rintracciato e arrestato poche ore dopo. Ora dovrà rispondere delle accuse di omicidio e tentato omicidio.